L'operazione della compagnia di Ferrara che ieri ha portato all'arresto in fragranza di due giovani autori di truffe ad anziani rientra nelle attività prioritarie dell'arma dei carabinieri nel settore di prevenzione e repressione dei reati contro le fasce deboli. Le attività investigative proseguiranno al fine di verificare ulteriori truffe ai danni degli anziani oltre a quelle già contestate ai giovani arrestati. Nelle province di Verona e Rovigo.